Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli? Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'oltrepop pavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3, vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015. Lo scrive Corriere.it, gli ubriachi che dovranno essere portati in ospedale con un'autoambulanza dovranno versare un contributo di 200 euro anche se sarà verificato lo stato di urgenza. La provincia di Bolzano, infatti, con una nuova regolamentazione sui trasporti con ambulanza ha deciso di escludere dai casi considerati urgenti che darebbero diritto al trasporto gratuito quelli relativi all'abuso di alcol. Chi dopo un viaggio al pronto soccorso verrà trovato con un tasso di alcol nel sangue superiore all'1,5 per mille dovrà quindi pagare il costo dell'ambulanza. Secondo te è giusto oppure no? Beh sicuramente il fenomeno dell'intossicazione da alcol soprattutto da parte dei giovani l'abuso che questi ne fanno durante le serate della Movida, ad esempio del sabato sera è un problema per la società nel senso che può provocare problemi alle ambulanze che di notte non ci sono poi così tante unità in funzione, per cui potrebbe essere un metodo per disincentivare appunto l'uso dell'alcol da parte dei più giovani o comunque a non esagerare in questa forma di divertimento che ormai si è imposta sulle altre del passato come poteva essere andare a vedere un cinema, andare allo stadio quindi sono abbastanza d'accordo a far pagare un servizio che dovrebbe essere di emergenza quando l'emergenza diventa la routine. Qualcuno però dice che è comunque un'emergenza come hai detto tu, per cui è giusto garantire che questo tipo di servizio sia gratuito? Sono punti di vista, sicuramente l'amministrazione che ha attivato questa tariffa dovrebbe sensibilizzare i giovani comunque contro l'abuso dell'alcol, vi sono progetti anche nella città di Pavia, in tutta Italia, sono progetti contro l'abuso di queste sostanze. Con te servono, funzionano? Possono funzionare ma probabilmente il maggior deterrente è essere protagonista di un episodio di intossicazione alcolica che sicuramente fungerà come miglior deterrente e l'informazione paritetica fra giovani, un giovane che ha avuto questi problemi, che ne parla ad un altro, può sicuramente aiutarlo a non esagerare nell'alcol. Perfetto, io sarei contentissimo perché tanto si può bere benissimo senza arrivare a un coma etilico e star male a dover chiamare un'ambulanza, quindi se fai il deficiente e bevi come un animale è giusto che ti paghi anche l'ambulanza, secondo me. Qualcuno dice anche che è un modo per disincentivare l'acquisto dell'alcol o comunque l'abuso di alcol. Anche, perché se pensi che se bevi troppo poi devi sborsare 200 euro per un'ambulanza, ci pensi due volte secondo me. Puoi bere benissimo, arrivare magari al limite del coma etilico però non caderci dentro del tutto. È giusto far pagare i costi dell'ambulanza in alcuni casi e non garantirla sempre comunque gratuitamente. Nel caso di un ragazzo che sta andando in coma etilico, sinceramente, secondo me, non dovrebbe essere uno di quei casi in cui far pagare. Cioè, va bene così come è ora, senza questa riforma di Trento, di farla pagare. Poi altri casi in cui uno deve andare a fare delle visite mediche, eccetera, allora sì, per carità, l'ambulanza la deve pagare perché i volontari non sono al servizio di chi non ne ha bisogno. Sinceramente un'intossicazione alcolica la ritengo una cosa abbastanza di emergenza che per cui assolutamente c'è bisogno di intervenire senza farsi pagare. C'è chi dice che l'intossicazione alcolica qualcuno se la va anche a cercare. Sicuramente, ma nel momento in cui diventa intossicazione alcolica diventa comunque un'emergenza. Non si può tutelare chi non se la va a cercare, non tutelare chi se la va. Cioè, secondo me, si fanno pagare le cose che non sono di emergenza, che sono programmate, che non sono necessarie, come trasferimenti, visite, eccetera, ma nel momento in cui una persona sta male, anche uno che è andato in moto e ha fatto una rotonda in contromano e si è andato a stampare contro un muro, si è andato a cercare.